Per l'ufficio di presidenza il consigliere Gianfranco Novero ha ricevuto il 18 giugno a Palazzo Lascaris i corsisti della quinta edizione dell'Academy on Sustainable Enterprise Development del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro CIFOIL. Il gruppo era accompagnato dal Program Manager Peter Tomlinson e da Annalisa Gamba dell'International Foreign Center.